A tutti voi in ascolto il mio più cordiale benvenuto a questa nuova lezione di storia della musica. Oggi affronteremo la musica, quindi la melodia e la poesia, nell'antica Grecia. La musica greca antica può essere considerata patrimonio purtroppo perduto. La reale portata della musica greca possiamo solo immaginarla dall'importanza conferitale dal sistema educativo d'età classica. Fin dalle prime testimonianze a noi note, che sono i poemi omerici, la musica si rivela strettamente collegata alla poesia. Infatti si parla di cantori professionisti chiamati aedi, che narravano le gesta mitiche ed eroiche accompagnandosi con una sorta di cetra chiamata Forminx. In quel periodo si definirono diversi generi di canto accompagnato da strumenti codificati come nomoi, cioè nuclei melodici cui il poeta musicista poteva rifarsi sviluppandoli, una sorta di cosiddetti patterns odierni. Si distinsero il nomos aulodico, cioè il canto e musica prodotta da un aulos, e auletico, destinato al solo strumento. Quindi aulodico e auletico. Allo stesso modo abbiamo il canto citarodico e citaristico, in riferimento alla cetra o la lira. I grandi lirici come Alceo, Archiloco e Saffo furono poeti musicisti. Altrettanto si può dire degli autori di lirica corale. Vanno menzionati Terpandro, che perfezionò la lira, portandola da quattro corde a sette corde, e Sacada, virtuoso di Aulos. Tutto ciò tra il VII e il VI secolo a.C. La musica aveva grande importanza nelle cerimonie religiose, nei giochi e nella tragedia. Quale peso avesse nella formazione del cittadino greco, ci è dato sapere grazie a Platone, che teorizzò anche sui riflessi etici del fatto musicale. Quindi, Platone teorizzò riguardo alla dimensione etica della musica e sui risvolti che potesse avere sulla psiche umana. Andando un po' più sul tecnico, adesso definiamo il Diti Rambo, che fu il canto caratteristico della lirica greca. Composto e cantato con accompagnamento di danze in onore del dio Dioniso, celebrava le sue avventure, tristi o liete che fossero. Sviluppatosi in forma dialogica tra i secoli VI e V a.C. fu messo in relazione con la nascita della tragedia greca. Nella seconda metà del VI secolo, quando Pisistrato ebbe istituito ad Atene le Dionisi urbane, accanto ai concorsi tragici e comici si svilupparono quelli di Tirambici. Ricordiamo Pisistrato, importante uomo politico del periodo del VI secolo a.C. ad Atene. Proprio il clima della competizione comportò la perdita dell'aura rituale del Diti Rambo. I suoi contenuti testuali non riguardarono più i miti dionisiaci, ma vicende relative ad altri dei ed eroi. Anche dal punto di vista musicale il canto di Tirambico conobbe a quest'epoca un'evoluzione decisiva, sia per quanto riguarda gli schemi melodici, sia per quanto concerne l'organizzazione ritmica. Nel corso dei secoli V e IV a.C. la musica del Diti Rambo sviluppò a tal punto proprio virtuosismo da offuscare l'autonomia del testo verbale. Quindi c'è sempre questo equilibrio da mantenere tra l'importanza del testo che dovrebbe, nemmeno in linea teorica, essere privilegiato rispetto all'accompagnamento musicale e pur tuttavia quando si va in competizione la parte musicale virtuosistica acquista sempre più importanza da diventare quasi autonoma o comunque offuscare il privilegio che sarebbe dovuto alla componente verbale. Tra il VI e il V secolo a.C. venne elaborato anche il concetto di armonia intesa come musica prodotta da un contesto geoculturale omogeneo, individuata da un certo andamento melodico, con una qualità sonora caratterizzata da una determinata timbrica, da una precisa altezza dei suoni e da una particolare disposizione degli intervalli. Vi erano dunque armoniai proprie di tradizioni musicali tipicamente regionali, una sorta di musica etnica di particolari regioni. Una successiva formulazione delle armoniai fu quella elaborata dal maestro e consigliere di Pericle, il cui nome era Damone, acuto interprete della dottrina pitagorica. Accettando cioè che la musica si fondi su leggi e rapporti che ispirano sia l'intero cosmo sia l'animo umano, secondo quando indicato appunto dai pitagorici, Damone classificò le armoniai in base a un criterio etico, oltre che formale. Fu per questo che la sua riflessione in merito alla funzione pedagogica della musica venne poi ripresa, come già anticipato da Platone, e anche da Aristotele. Ma la dottrina etica della musica possiede a sua volta un duplice risvolto se si considera che la corrente pitagorica procedeva distinguendo razionalmente i caratteri e le passioni secondo il principio del numero, cioè elaborando astrattamente a priori i loro rapporti numerici, mentre Damone aveva bisogno empiricamente della passione e dell'esperienza per riconoscere il legame fra musica ed effetti. Quindi nella musica greca abbiamo anche questa contrapposizione filosofica tra il razionalismo, una sorta di razionalismo antelitteram, perché poi come sappiamo il filosofia e il razionalismo verrà molti secoli dopo, ma direi quasi millenni dopo. Mentre questo, diciamo, razionalismo antelitteram dei pitagorici contrapposto a un empirismo antelitteram di Damone, che cerca appunto per prove ed errori quali sono i legami tra la musica e appunto la psiche umana. Strumenti e patrimonio musicale furono un'altra cosa della quale dobbiamo parlare. Infatti la Grecia adottò degli strumenti che furono di origine asiatica come gli strumenti a fiato, tra cui l'aulos che abbiamo già nominato, e la Syrinx. Per quanto riguarda questo nome Syrinx vorrei segnalare il brano per flauto solo di Claude Debussy, Syrinx, che è un caposaldo del repertorio flautistico moderno. Altri strumenti a fiato erano la salpinx, una sorta di tromba, uno strumento a bocchino, gli strumenti a percussione come cimbali, sistri e crotali, e varie forme di lira o citarra. Formings, barbitos, magadis e pectis. Riguardo al barbitos vorrei segnalare degli studi appunto del professor Antonio Marcellino. La musica era di natura monodica. L'accompagnamento strumentale consentiva però forme di eterofonia. Lo strumento eseguiva la stessa melodia della voce, improvvisando però abbellimenti e varianti. Però tuttavia molto di questo è perduto, infatti ci sono giunti pochissimi frammenti di musica greca, tutti appartenenti all'età post-classica, ad eccezione di un frammento del primo Stasimo, dell'Oreste di Euripide. Dobbiamo un attimo definire cos'è uno Stasimo. Lo Stasimo è un canto del coro che separa un episodio dall'altro. Questo primo Stasimo ci è pervenuto su un papiro di età romana, quindi è una fonte secondaria in un certo senso e quindi la datazione della musica originale è praticamente impossibile da definire. Fra gli altri documenti ci sono pervenuti due inni delfici ad Apollo, l'epitaffio di Sicilo ed alcuni frammenti strumentali a due inni a Elio e a Nemesi, attribuiti a un certo Mesomede e pubblicati nel XVI secolo da Vincenzo Galilei, padre del più famoso Galileo Galilei, la cui musica, secondo alcuni studiosi, è una ricostruzione di un dotto bizantino, quindi questa potrebbe essere un'opera spuria. Per quanto riguarda gli inni precedenti, quello da Apollo e a Sicilo, sono datati all'incirca tra il primo e il secondo secolo avanti Cristo, quindi in età ellenistica non più classica. Ora, vorrei dedicare una piccola digressione alla teoria musicale greca, perché i greci avevano appunto una teoria musicale che poi influenzò i musici teorici per parecchi secoli avvenire. La teoria musicale della Grecia antica, di cui è impossibile stabilire la concreta corrispondenza nella pratica, che c'era una grossa differenza tra il musico teorico e il musico pratico all'epoca, comunque questa teoria ci è tramandata in numerosi testi e, come già detto, ha influenzato largamente la teoria musicale medievale e rinascimentale. La base del sistema musicale greco era il tetracordo, cioè un insieme di quattro note, formanti due intervalli di tono e uno di semitono. La diversa posizione dei semitoni caratterizzava le armoniai, possiamo chiamarle armonie o addirittura modi, che potevano essere armonia dorica, frigia oppure lidia, e che venivano a formare scale composte dall'unione di due tetracordi dello stesso genere. Le scale erano discendenti, quindi abbiamo un tetracordo di quattro note, unito a un altro tetracordo di quattro note, va a formare una scala di otto note. E questi tetracordi, appunto, potevano essere dorico, frigio o lidio, a seconda dell'armonia utilizzata. E, dunque, secondo questa teoria, parecchie combinazioni potevano essere costruite. Si è soliti far corrispondere il dorico a una scala diatonica discendente da mi e mi, ma questo è giusto per capirci in termini moderni, il frigio da re a re e il lidio da do a do. Asimmetrica, invece, l'armonia misolidia da si a si. Con lo spostamento dei tetracordi si ottenevano le armonie iperdorica, iperlidia e iperfrigia, con un intervallo di quarta ascendente. E ipodorica, ipolidia e ipofrigia, un intervallo di quarta sotto, quindi iper, come dice il prefisso, indica sopra, ipo, sotto. Si distinguevano inoltre i generi diatonico, cromatico ed enarmonico, per cui, restando immutate le note estreme del tetracordo, variavano gli intervalli al suo interno. Dunque, per esempio, un tetracordo dorico nel genere diatonico si configura in senso discendente, ad esempio, mi, re, do, si, cromatico, mi, do, diesis, do, si ed enarmonico. Mi, do, poi una nota tra do e si e si, quindi una sorta di quarto di tono tra do e si. La trattatistica ci tramanda due sistemi per la notazione musicale, che era alfabetica, uno per la musica vocale e uno per la musica strumentale. Dopo l'età ellenistica romana si sviluppò in Grecia il canto bizantino, che però riguarda un'altra epoca e verrà trattato in un'altra lezione separata. Grazie ancora per il vostro ascolto e mio più cordiale a rivelerci e alla prossima puntata. Grazie. Grazie.